Il cioccolato è uno dei tanti alimenti che sono potenzialmente inquinati. Noi ne abbiamo analizzati parecchi di questi cioccolati, il cioccolato vero e proprio, sia la polvere di cacao, sia la merendina, sia quelle creme di cioccolato, di nocciole. In molti di questi casi i prodotti sono stati trovati inquinati. Inquinati e dannosi per la salute, potenzialmente cancerogeni se contengono metalli pesanti. E' acciaio, alluminio ferro e cromo. Queste sono queste creme alla cioccolato, cacao e gianduia, cobalto e tusteno. Ma qual è il motivo per cui vengono aggiunte queste polveri? Queste polveri vengono aggiunte perché hanno la capacità di non fare separare il grasso del cacao dal cacao. Quindi non fa delle striature bianche che sono sgradevoli alla vista. Sono perfettamente sane, non danno nessun problema a queste striature bianche, però il cliente non le vuole. E allora preferisce comprare qualcosa che non è sano, ma tanto lui non lo sa, piuttosto che qualcosa di sano ma brutto. Bertucci il cibo più bello... Bertucci il cibo più bello...